Aperto e subito rinviato il processo a nove tra politici e ex amministratori chiamati a rispondere del fallimento del CREAF, il centro di ricerca e alta formazione di via Galcianese mai decollato, nonostante 22 milioni di finanziamenti pubblici ricevuti tra il 2005 e il 2016, se ne riparlerà il prossimo anno, il 6 marzo. Così ha deciso il Tribunale di Prato oggi, dei nove imputati tutti accusati di bancarotta semplice, presente in aula solo Veronica Melani, membro del Consiglio di Amministrazione. Non hanno risposto all'appello del giudice il sindaco Matteo Biffoni, finito nel procedimento in veste di presidente della provincia a partire dal 2014, il suo predecessore Lamberto Gestri, i due ultimi amministratori Luca Rinfreschi e Laura Calciolari, il componente del CDA Gian Mario Bacca, i tre membri del collegio dei revisori dei conti Massimo Longini, Massimo Picchi, Marco Bini. Il pubblico ministero Lorenzo Boscagli ha sottolineato la necessità di fare un calendario delle udienze per questo processo complesso, il cui giudizio in tempi brevi, il sunto del suo ragionamento, è interesse anche degli imputati. Il 6 marzo, quando la campagna per le elezioni regionali sarà nel pieno, si tornerà dunque a parlare di CREAF e di un procedimento penale che è anche terreno di scontro politico. La società, la provincia di Prato socio di maggioranza con l'81% e i comuni dell'area per la restante parte, è stata dichiarata fallita nel 2017. L'immobile di via Galcianese, unico bene da monetizzare, è stato acquistato recentemente dalla regione toscana tra i creditori del fallimento. Una decisione finita in un vortice di critiche, anche feroci, che però non ha fatto fare passi indietro a lente. Nel capannone presto arriverà il primo inquilino. La nuova proprietà ha infatti stretto un accordo per affittare al comune una parte dei 13.200 metri quadrati da destinari all'archivio comunale. Corposa l'inchiesta della procura che, dopo tutti gli elementi raccolti dalla Guardia di Finanza, faldoni enormi di atti verbali e documenti, si è convinta che la fine del CREAF era già scritta prima del 2016, quando l'ultimo amministratore portò i libri in tribunale, con la richiesta poi rigettata di ammissione al concordato preventivo. Qualche giorno prima l'Assemblea dei Socii aveva negato alla società un ulteriore contributo di un paio di milioni, in assenza di certezze sull'entrata in funzione del CREAF.